one two three one two three one two three one two three sassa prova prova one two three one two three one two three one two three o a way amici e soprattutto i non amici di pes fan club italia allora buon pomeriggio per me sono le 16 e 29 un appena acceso buonanotte per chi la vede la notte buon pomeriggio se ciao buonasera per chi lo vederà la sera e buona notte non l'ho detto ma buongiorno a chi lo vedrà domani mattina allora ragazzi come sempre quando faccio il turno di notte io sto tutto mezzo rincolonito spero che questa volta si senta allora ragazzi innanzitutto volevo chiedervi scusa nuovamente per non aver postato più una mazza ieri avevo fatto il sattezza di 15 video ma donna 5 video con una media durata dai 20 ai 30 minuti a video che ho fatto prima lo spacchettamento no primo presentato il nuovo iconic ebbene sì qualcuno l'avrà capito acquistato come sempre detto facendo le cose ponderate il manchester united eccolo qui davidino beckham perché ripeto tanto prima o poi le cazzo delle monete le devo shoppare quindi mi son detto visto che più o meno l'andazzo della monetizzazione sta andando bene diciamo per quello che posso fare io per quanti iscrizioni visualizzazioni possa avere io per me sta andando alla grande per me quindi entro ottobre volevo fare questa cosa l'ho fatto in anticipo per avere altre 3 mila monete per avere altri tre coupon di contratto di rinnovi per avere altri agenti da spacchettare cazzi e mazzi via dicendo e vaffanculo quindi fatto questo avevo poi spacchettato la gente speciale di manchester tottenham e lione perché l'obbligo ma sì ragazzi non me ne fregono cazzo poi ho fatto un giro qua perché qua diciamo più o meno c'è qualche giocatore pallaneri interessante questo quando l'ho capito chi è un giro avevo fatto e tre giri qua come ogni anno io da lunedì a mercoledì fino a quando arriva ai 25 mila gp giro che stiamo verificando una cosa dicevo giro un attimo arrivo subito su ci sono ci sono quindi stavo dicendo ho girato quei tre mamma mia che schifo perché dico che schifo voi faccio vedere no qui no qui vi consiglio sempre di girare tanti gp ragazzi alla fine come l'anno scorso non serviranno un cazzo se metteranno al massimo il pool a dicembre come fece l'anno scorso su vera qualche altra leggenda e qui ho trovato allora quelli con lo scudettino sopra sono quelli che voi già avete che non sono né if né iconic né leggende ma sono giocatori che già avete e vi compare lo scudettino quelli che voi già avete ma pescato per i nuovi è è così vedete scudettino più viene evidenziato in grigio in scuro quindi ho trovato solo underweight come palla nera schifezza vabbè allora lo schifo della gente speciale ho trovato così sto facendo riassunto di ieri ho trovato ho trovato bruno fernandez non uno va ben due no scusate uno questo l'ho portato già a 16 livelli perché avevo quello palla nera normale e glielo data addosso gli ha dato si un 16 livelli poi ho trovato sperando di non spoilerare l'altro due mcguir mcguire come cazzo chiam gli ha dato poche niente quindi abbiamo finito i manciati il tottenham ma che vado di caffa 3 dei 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 alli come cazzo chiam 3 schifo totale ragazzi lione volevo acqua a war come se chiami e il dc la come cazzo chiam mi ha dato dei pai mamma mia sandissima mi ha dato dei pai dembele e ghimaras ovviamente qua avete visto poi ho registrato la prima del giorno io non dico cazzate e l'ho vinta ho vinto questa challenge foto prima del giorno non contro com ma online così da più gp mettendo i giocatori salto ho vinto questa quindi sono rimasto e quest'altro poi ho fatto la prima contro con quella superstar e l'ho vinta contro la juve 2 a 1 poi e ho registrato del terzo video quindi a ogni video poi spacchettavo qualcosa poi al quarto video ho registrato due partite contro con perse contro superstar una contro l'arsena mi sa 2 a 1 o 3 a 2 una contro il bayern monaco 3 a 2 ho perso entrambi io le vincevo potevo fare il pirla come hanno fatto tutti facendo girare la palla e andare avanti così ma portando un video che cazzo faccio non giro palla e che cazzo niente non è una live quindi l'ho giocato e come al solito basta che perdi palla quelli che hanno castigato perché contro con leggenda sono cazzi amari allora eravamo rivasti che ho vinto la challenge online la vedete ve lo sta a vedere l'orario 28 di 15 e 47 poi ho vinto come ho detto contro superstar ho perso 3 a 2 contro l'arsena ragazzi ve lo giuro vincevo 2 a 1 a fare il deficiente perché ovviamente mentre registravo e si diciamo che stavo parlando ho perso due volte la palla ragazzi e ha preso due gol mi sa allucinante la capi posso garantire che fischiava delle cose assurde contro a lui tutto favore alla fine stava facendo 3 a 3 e ma sono preso in saccoccia va benissimo allora poi ha detto me nello stesso video registriamo con del baiar monaco anche qui 2 a 1 soffertissima li mortacci sua e alla fine non ho fatto altro che non pareggiare perché me l'ha messo in culo va bene chiudo il quarto video parto con il quinto video ve già qui vi garantisco le migliori gas teme e non bestemmi ripeto apre chiudono parentesi vi sono anche scusato ieri mi è sfuggito una piccola bestemmia che per me sono da censura e ho chiesto scusa mi è sfuggita non ci ho pensato in quel momento anche in quel momento nella live poi mi sa che mi sono quasi corretto poi ho detto rifacciamola e mi da questa volta invece barcelona come vedete tutti e quattro me l'ha dati li mortacci sua anche qui sull'1 a 1 alla fine comunque ragazzi qui contro mi ha dato dei rigori allucinanti è meglio che non ve lo dico la morte di kit e murt che ne vuoi fatto questo mi ridà nuovamente il baiar monaco ma porca troia dico io e questa volta gliela metti in saccoccia faccio il 2 a 1 al 75esimo raga so sicci o al 70esimo ho fatto pure a sto punto dopo la quarta volta melina e l'ho portata a casa sono partite che super star ce la fai ma leggenda è un po difficile ovviamente io con squadre con giocatori palla ore palla nera me la son giocato giusto perché muovi faccio vedere e poi la sim va fanculo me ne sono andata a lavorare vedete ho chiuso la sim e me sono andata a lavorare nel frattempo a questo in questi orari mi sono andata a dormire quindi la sto facendo la lunga sto facendo un riassunto di ieri pescata avuti due agenti mi son detto beh ma non mi dare né doppioni e né quelli che che non voglio manga può cazzo uno me l'ha dato subito e lo volevo che l'anno scorso non l'ha dato per niente matthaus ecco che fa io lo sapevo mi ha dato a pugione che sta qua lo sta ma che fare non glielo do a panno glielo do me lo tengo come dc perché le tra b ragazzi inutile parliamoci chiaro degli ali ragazzi ditemi che cazzo a meno piano non mi piace vedete non l'ho bloccato e vediamo vediamo come vedete sto ancora con una squadra di merda ragazzi non ho giocatori con i contro coglioni a differenza di parecchi non dite no ma a me fa tutto schifo detto questo andiamo vedere il posto in arrivo gp ecco qua mi hanno dato oggi e martedì giustamente quelli della juve del barcellino e bayern monaco il coupon gp gp altre agenti gratis riceviamo tutto e mettiamo in sacco cioè qui siamo arrivati a 4.441 mila gp quindi facciamo così ecco perché ho detto stavo provando ragazzi mentre giravo io volevo un altro allenatore tanti gp servono anche questi e mi sono preso questo a volte che ho preso pillo l'altro giorno in live si meglio giocare in tattica difensiva più stiamo più là poi lo proviamo anche in live ho preso questo scaloni che mi sono detto 4 3 3 3 p del cazzo non diventano 3 p ma diventano una p e 2 sp che più o meno sia a fase offensiva che difensiva tra raggio d'azione con difesa stiamo là ragazzi pressing aggressivo piace a me anche se io stai stati scala che non la non le vedo mai come sono preso questo lo sto facendo crescere avendo probabilità gestionali può basse stacci tua di nonno vabbè fotte sega andiamo a spacchettare queste scaloni che la diamo subito a usare adesso in line la partita contro con ragazzi poi le seppi diventano le sedete e quindi solo che sono un po larghe ragazzi non so come cazzo stringerli vabbè cazzo ve ne è fatta a voi giusto agenti agente special giriamoci questo due volte vediamo cosa cazzo da mi sto dimenticato di saltare tutti angelo bove marco cani amici non è non che colleghi e amministratori del gruppo pes fan club italia mi raccomando ragazzi andatevi iscrivete stiamo crescendo siamo numerosi i paraculi cercate ovviamente però di chi partenza di non iscrivervi perché vi mandiamo a fare in culo saluto demis boscherini detto dede cripton su youtube iscrivetevi anche da lui saluto anche l'amico non che pro con i contro coglioni che mi fa piacere che sta nascendo un'amicizia gabriel barberini detto l'ellinio 88 iscrivetevi anche da lui saluto i fedelissimi tomi 80 e max gona li devo perché li nomino sempre ragazzi perché al di fuori dei video delle live loro mi aiutano in privato va bene detto questo andiamo avanti che cazzo me ne faccio di questo non lo so redmond saltendo cls ma vaffanculo vedete poi perché io prendo sempre ho preso altri dlc perché vi danno queste pescate vedete vi da un allenamento tattico familiarità via dicendo allora dove stanno questi altri abbiamo altri quattro giri qua questi sono quelli ottenuti con i match dei io li sto facendo fuori me club perché a meno l'arte allene un po si anche la scritta atto laggato però a me non perdi punti fa schifo lo stesso ragazzo tranquilli qua provi da un giocatore differenza della gente premium che sono tre quindi ecco perché ponderò a volte gli spacchettamenti lo soppale dobbiamo ponderare tutto ragazzi ponderare comunque vi ringrazio le visualizzazioni ragazzi stanno salendo iscrivetevi veramente a questo cazzo di merdoso mio canale a uno mi ha chiesto come sbloccare i giocatori dopo aver bloccato e un altro faccio vedere che palle raga sto leggendo dei messaggi mi volete un'altra bella notizia come chi ha buona memoria dissi sabato in live che martedì c'era un altro diciamo tra virgoletto controllo per un percorso che io il mio generale stiamo facendo per chi vuole essere aggiornato vi posso dire che la cosa è positiva chi vuol capire capisca chi non vuole capire se ne faccio una ragione quindi a giorni faremo anche l'ecografia chi mi odia se ne sbatti i coglioni chi ci tiene un pochettino a me incroci 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 insieme a me incroci vabbè sono le dita andiamo avanti sto cercando di parlare di meno di sto fatto così meglio non pensarci perché tanto stanotte sempre a lavorare devo andare è una cazzo di paranela me lei vuoi dare mortacci tu e di riconami o niente continuate a fare niente vabbè il cazzo è così william giose anche tu lo sai ti fa le tue classiche sim del cazzo e te ne vai a fare in cura perfetto e dammi una pala nera deve che sono tutte palle oro però mamma mia e comporta di bene ogni tanto ciao minchia raga che brutta fine ha fatto questo era un vostro di giocatore era un mostro di giocatore vabbè facciamoci l'ultimo giro qua spagna beh mio cazzo ma vaffanculo cazzo è costezza in un pensiero di lo short noi a che allora era qui ovviamente rimaniamo sulla sole dei 400mila gp fino a mercoledì poi fino a sabato saliremo sopra i 500mila gp presumo perché dipende dei toni che faccio quando posso riesco a fare qualcosa in più allora qua ieri notato che diceva inglese team league club selection english league poi sono andata a vedere mentre spacchettava ovviamente notavo noi che bayern monaco tiago bayern monaco questo paese a germe bayern mon paese a germe bitzel non c'è di un cazzo sancio non c'è di un cazzo sul permesso e fumato qualche canna con vabbè facciamoci un giro con i gp e ci andiamo con la prima del giorno se la vinciamo potrei fare un altro giro qua se la vinciamo dubito lancia o che botta di culo a noi portiere però ma dai ma dai ma dai tumore tumore fode interessante questo se lo mettono se lo mettono se lo mettono fai o the week vabbè 12 g potesi riusciamo allora record my club che altro mi sta dando allenamento tattico allora provo con voi questa il video quindi il monforte ai giocatori della challenge che sono 12 vediamo se almeno questo lo portiamo 8 e 20 quantità gestiona perfetto che culo poi allora spirito di squadra vedete basso idem familiarità vaffanculo a conami però facciamo una cosa adesso vediamo chi possiamo allenare l'englet ok mandandacci cico coce ma lo facciamo così è da provare ragazzi è da provare vediamo come va poi mettiamo avanza difensivo lui difensivo gioco si rimane bello dietro contropiede ronaldo contro quindi è un contropiede levandoschi così stanno belli fisi avanti poi usciamo andiamo qui vediamo che si può fare no così non so chi ho da pompare vediamo cld cld cc cls dc sviluppo e mille allo dc sviluppo quindi stiamo portando bandic perfetto mamma e guai vediamo se e cresce ancora di più brasile 5500 perfetto 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 meglio di niente sta già 13 mi serve come cospo poi abbiamo detto beccam becca ce le d e ce le d chi è 3.100 un altro livellino è andato poi che altro abbiamo cc e cls alla prolifica c 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 da io do l'ota dai così comincio a mangiare un po' ah sta già a secondo livello vabbè questa tala prolifica che cazzo io la posso dare alla prolifica mi ha brista in panchina cls ma ne ho messi minchia messi 46 livelli ma non è possibile dei pai che cos'è giocatore in chiave dei pai ma ne e alla prolifica sì mila e nuove questi mila invece li possiamo dare a visto che me lo sto portando e mi se no ho sbagliato ah l'engletto ok devo dare a lui domani ok raga abbiamo parlato un po' troppo giusto però dovevo farvi vedere farvi un riassunto di ragazzi quindi e quindi il cazzo e quindi cosa ma che non superi 4000 a porca troia non posso fare la challenge ma la facciamo lo stesso da ragazzi dai chi se ne frega questa tanto andiamo qui l'abbiamo fatta ieri la rifacciamo pure oggi partita secca con tre giocatori di risalto così uno due tre così vi danno i mille punti di exp più bonus partita andiamo a trovare l'avversario sperando che lo trovi subito sperando che ah le giocatori dai ragazzi iscrivetevi dai continuate ad iscrivervi lo so ieri cinque video vi sareste divertiti ragazzi fidatevi dai ieri lo trovo subito sperando che ok perfetto superare una 4 mila forza squadra ma raga e neanche a falla apposta poi di che io questa random partita speciale turco o greco quanto è cazzo di paese 118 punti settimanali ma non ho cambiato la maglia 63 partite 20 sconfitte questo è il mio standard attuale 48 partite 20 sconfitte vabbè sistemiamo la squadra no non ho fatto no raga sto rincoglionito devo sistemare vabbè da mica tutti a palla stanno e come si fa non fare giocare non basta sta palla trate lo mio di paese lo metto così no state a casa 91 ma in che raga scende di brutto vabbè dai lasciamo come sta il mondo lo gioca con maledetta la muerte da mamma maledetta dai raga che dio ce la mandi bene dai avevo da mentale sia la familità che lo spirito di squadra vabbè dai dalla notte sempre così per me buonasera da fabio caressa avete programmi per stasera pensavate di andare a vedere quel film inghilese con sottotitoli slovacco al cinema o forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà e invece questa sera le stelle che non potete perdere su quelle in campo anche noi oggi di brutto ragazzi ma chi io vabbè tre tacche mi ha trovato eh vabbè vedo un po' sminchiato già questa la da lui e questa la buttà fuori vabbè rimango sempre io con la scarsezza totale del che vabbè tutti i professori sono tutti dicono fai così fai colato professori sono ecco vabbè stiamo provando questa allenatore sicuramente davvero ottima l'azione sicuramente non è al massimo quindi può essere scontato questo va già al scivolone benissimo con tanta facilità arriva Cristiano Ronaldo toglie ma Dados che già mi è cacato il cazzo dai e u e nessuno vabbè dai vabbè dai vabbè dai fa avanzare l'azione con il lancio lungo in apri vabbè dai tutti con il cross di nuovo ma dò che palle tutti con i cross di nuovo scodelle in avanti palla filtrante perché Cristiano parata di Shesney mi stanno tornando che mi sbaglio i tiri un po' poi dite qua sono io che non c'ho tira vabbè va bene guarda quell'altro va ma che che come mi permetto di passare la palla mandandalla boh troppo stretti troppo larghi delle pili ragazzi cercando seguito di sfruttarlo troppo larghi non c'è modo di stringere ragazzi non c'è modo di sti guardati che palle ci posso fare nulla che sta facendo e il cambio a fare e batti che mi ero già tre quarti di coglioni ma non l'ho fatta anche gli sti show non l'ho fatto un cazzo ancora vediamola prenderlo questo già già l'attacca su niente ragazzi io quest'anno i copi di test page dell'anno scorso il pallone filtrante non è riuscito però a concretizzare il passaggio filtrante da manuale ha mostrato grande precisione e visione di gioco che brutto quest'anno senza 3p ragazzo sincero sono anni che ho sempre giocato 3p non mi trovo più senso madonna mia ma perchè la alzati perchè la palla sempre a lui fa mamma mia che palle mamma mia che palle mamma mia che palle vabbè no non fischiare arbitro non fischiare i falli a me qua 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 vabbè dai l'azione poteva diventare davvero pericolosa colpisce segna lui ho detto che quest'anno si va avanti con i cross con i falli che non fischiano vabbè dai vabbè dai che palle Cristo santo che palle e sali ma ne minchia com'è stretto me li metti sp e non fanno un cazzo non fanno ma perchè a lui c'è sta cantella perchè ma perchè sta largo un sp così larga niente dai avangula madonna mia come cazzo è largo ma pure i lanci fa questo no no ma te lo faccio vedere lì come si fa un lancio coglione vabbè che cazzo broschi mi ha fatto il fallo mentre tira ma non fischiare un cazzo ma una volta tante butta la dentro sta cazzo di palla non si darà per vinto Fabio ci riproverà questo c'è a Fabregas che io ho buttato ma come cazzo si fa palleggiare con il che c'è a Fabregas ma può fare no io ho il cross intercettato eh eh posizione regola ah sono a me gli attaccanti sono larghi non ho un cazzo di allenatore con gli attaccanti stretti o un cazzo di attaccante ma guarda ma guarda non mi fischio un cazzo di fallo oh vabbè ma nemmo non sa tirare neanche lui in porta quando riesce a controllare madonna madonna oh e di nuovo a quello che fa le oh c'è spade gas ancora cinque minuti di gioco nella prima frazione c'è uno spirito di squadra di merda ha misurato male la distanza qui prova con la palla lunga ecco il lancio grande occasione no vabbè dai raga boh vi deve spiegare cosa ha fatto il salto in alto ha fatto il salto in lunga ha fatto van dica raga ma l'avevo vabbè dai non ti lamentare ecco è oh e palle e gioca testa di caprentole in culo riceve in posizione interessante vabbè non fischia un fallo guardate la buttata a terra non la fischia vabbè vabbè abbiamo capito come sta partita da vabbè va bene Konami va bene vabbè stai calmo Nico rilassati stai calmo per favore assistito una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni l'1-1 risultato giusto stai abbastanza calmo non c'è per forza che ci la dà non ho altre tenative la partita finora è stata davvero intrigante speriamo di continuare a divertirci anche nel secondo tempo punteggio al momento sull'1 pari ma vabbè ma vabbè passaggio profondo per obame young lungo passaggio in avanti Niente, non lo voglio, niente No Mamma da Butta Cosa cazzo va quello? Ma da Si riparte con un fallo laterale No, mi danno al cazzo questi Cristiano Ronaldo Alza la palla in profondità verso un compagno Dove sta Ronaldo? Dove cazzo la dà quello? Ma dove cazzo la data? Ma che cos'è quest'anno i passaggi? Mi avete rotti i coglioni Niente 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 Io non so più giocare Io non so più giocare No vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai E vai su E togliere ma da addosso Madonna mia Ma perché questa istruzione del cazzo Panno Peggio dell'anno scorso Peggio Peggio Madonna Prova a cambiare la situazione Con una giocata in avanti Virgil van Dic Si è fatto trovare pronto E corri Ronaldo Ma che cazzo gli ha fatto Ronaldo sto gioco Quest'anno Cristo santo E guarda canti a guardare Canti a guardare stavo Vabbè Madonna mi nervoso Come mi sta salendo E gli passa davanti Ma io non le ho capire Sta cosa Ma perché gli passa davanti Guarda che cazzo ha presso Vabbè dai Io voglio Perché chi ha in porta A questo Vabbè No no vabbè dai Voglio vedere che cazzo C'ha in porta A questo Vabbè C'è Ma dai Ma per favore Ma dai Ma io da Juventi Ma non posso vedere Cos'è già la gara Non ci credo proprio Non ci credo proprio Ehi Asane Vai a fare in culo Va Bravo Mamma mi sale E' schifo proprio Ecco perché Anascosto Non lo faccio giocare mai Beccam Bruno Occhio attivo Si esprime In un buon intervento Sembrava aver sorpreso il portiere Ma lui ha risposto Con un intervento d'applausi Prova a scavaccare avversari Con una palla lunga Minchia come è lento il gioco L'1-2 A me non va Non va Io non lo so fare Oh E non ti Attaccheranno Quino allo scadere Esci Mandandaci ci cocco Percivete su como Va famo Arriva Cristiano Ronaldo Con Buster Qui deve tirare Grande opportunità No no Vabbè 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 Va bene Cessi Vabbè Fabregas Bulli Oh 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 Non è detto che finirà così Guiol Il suo pallone è morbido Possibilità di tiro Attenzione Perfetto Per forza Oppure Beckham Mettiamo Lota Qui Cante Qui Poi mettiamo Qui Ok No Poi mettiamo Ovviamente Come mi ha fatto capire Dennis Per farlo stare dietro a Beckham Lidiano avanzato Su Gullet Giusto Ho fatto bene Su Beckham Come a cazzo Se chiamo A quanto pare Ci sono dei cambi Da entrambi i lati Si rompe l'equilibrio E adesso La gara si fa interessante Una rete Che dimostra Il quanto fondamentale Dei veri goleador Ecco che lag Lo sapevo ragazzi Avete visto? Che figli di puttana Che figli di puttana Che figli di puttana Brutti bastardi Di dove cazzo sei? Brutto pezzo di merda Di dove cazzo sei? Fino a mo' non ha lagato Giusto giusto Po' che stai sotto Brutto figlio di puttana Eh ma non si può dire Brutto figlio di puttana No no Non si può dire Guarda come lag Guardate come lag Guardate come la guarda Come sono fermi Ragazzi sono fermati I miei ragazzi Ce li ho fermi Ce li ho fermi Brutto pezzo di merda Brutto pezzo di merda Brutto pezzo di merda Brutto pezzo di merda Io trovo da mettere in culo lo stesso Figliatilo in culo Pachina da merda Sa Questa la dedico a tutti i gufi del cazzo Che abbiamo Guarda si metti i pa Si 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 Bruciti il culo Dai cosa è dai Fa la cara della connessione Prenditelo in culo Prenditeli saccocce Stavi vincendo Tiè Prenditelo in culo Tiè 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 Strameritata Ragazzi Abbiamo iniziato con questi valoni Ma Non c'è Non va Non va perché Lo devo provare con Raga ma state notando una cosa quest'anno Sarà la mia impressione Da volte che ti blocca vai a fare in culo Ma Ditemi la vostra Ma sono primo possibile 107 poi Ah 17.000 gpm Te hai visto ragazzi La prima del giorno Me l'ho dimenticato Perfetto Io ho una cosa che sto notando Devo andare a verificare Quello dell'anno scorso Ma è possibile che io ho già Faccio vedere No non è qua Qua Ho già Oltre 820 costi totali Non ho una scuola Non ho Iconic Cioè non ho gli if Tutte quelle cose Sapete quelli Ma è possibile che una 3.900 Neanche ho superato la 4.000 Non posso aumentare i giocatori Io l'anno scorso Mi ricordo Ce la facevo Cioè i costi totali Sono bassi Anche con Come si chiama Il porco qua Do sta Qua se la posso superare La 4.000 Perché c'ha già 860 Ma più o meno Vabbè Che cazzo Me ne frega Lo so già Lo sta Invidiosi L'hanno chiamati invidiosi Ovviamente la squadra 99 Vediamo Famiglietà Se c'è qualcosa A dargli 1 Vediamo 1001 Ragazzi Quest'altra cosa Per farli salire Poi Vabbè Vabbè Dai Lo dobbiamo Lo dobbiamo riprovare Ah posso fare due giri Così vi saluto ragazzi Perché abbiamo soppratti Ah no Un giro Cazzo E vi saluto ragazzi Dai Se avete GP Spacchettatele qui Da lunedì e mercoledì E questo pool Di terra Ma 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 Cazzo Ma che Che paleo Che paleo Che palle Che palle Che pale Ragazzi Niente Che paleo Ah me l'ha dato A me in familiarità Ma almeno quella Ecco perché Spacchetto Che paleo 3.900 Vabbè Tiè 103 Oh attenzione Non ti sforzare A salire di più Conami Porca Troia Poi ragazzi Un altro consiglio Se utilizzate Se utilizzate poco Alcuni allenatori Vi garantisco Che la femminità Si abbassa Raga Purtroppo Purtroppo Raga Questa è un'altra minchiata Del my club Questa è un'altra minchiata Del my club Dove sta La pirro E' un'altra minchiata I miei club Io non lo sto usando Da un bel po' Vediamo quanto è sceso Già la familiarità 103 Raga No vabbè Non ci credo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Allora Raga Vi ho fatto già vedere Come si mette La natura Come stai con La natura E qua ci metto A sto punto Scaloni Supirlo Dai 103 100 Dabbè Quelli mettono A capo Occhia Poi si pensa 103 Ma Questo volevo Ragazzi Ieri Denai Non me l'ha dato Vabbè Non ce ne faremo Una ragione Vabbè Ah 100 No Fischer 118 Niente Così Vabbè Dai raga È stato un piacere Vi saluto Ci vediamo giovedì Ok O vediamo se faccio Un video domani 141 giocatori Già Sti cazzi Vabbè Vaffanculo Prendiamoci 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 una sim E la lanciamo La lanciamo Sempre con scaloni Vabbè Ciao raga È stato un piacere E spero che lo vediate tutti il video Ciao alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti C'erro